12 8 minuti buongiorno da Andrea Mari torna anteprima sport come ogni sabato mattina al programma di approfondimento sportivo parleremo come sempre di calcio basket pallavolo e quant'altro partiamo però come sempre nel nostro primo blocco e ci occupiamo proprio di eh calcio e eh di Roburziena Roburziena che ehm ha vissuto una settimana impegnativa e la vittoria contro il eh Como di domenica scorsa ha lanciato ha confermato i ragazzi di mister dal canto eh nelle parti più nobili della classifica del girone A di eh serie C poi come sapete eh c'è stato il il turno di Coppa Italia da da cui è purtroppo la Roburziena è uscita eh una bella partita quella contro la Ternana tra due squadre che meritano il il la la qualità delle della della propria della propria della propria rosa e anche il posto in classifica che che occupano nei rispettivi gironi di appartenenza una Robur forse un po' sfortunata che un po' imprecisa che eh ha quindi dovuto eh dire addio alla Coppa Italia. la Roburziena che però si prepara a una dedicatissima trasferta quella di eh domenica a Novara perché per l'appunto per eh questo questa diciannovesima giornata di campionata di serie C girone A la Roburziena andrà a frontare proprio il Novara in una trasferta che non è mai semplice anche per eh la classifica eh sia della Roburziena sia del eh Novara ma prima di parlare di quella che è la diciannovesima giornata facciamo quindi eh un po' di passi all'indietro andiamo a vedere proprio il servizio realizzato dalla nostra redazione per quanto riguarda la vittoria di domenica scorsa contro il Como. È stato un bel gol a parte che di pensare la deviata e andata dentro diciamo che quando mi capita di girarmi e mi lasciano lo spazio per tirare cerco di calciare sempre è andata bene e mi è andata dentro. Sì loro erano in dieci quindi già dal ventesimo erano tutti chiusi dietro quindi per noi eh non era facile però per fortuna è arrivato diciamo questo episodio che eh che è andata bene è andata dentro e ci siamo sbloccati. Primo tempo abbiamo fatto un quarto d'ora 20 minuti che cioè sono da sinistra. Primo tempo siamo ritornati come siamo partiti mi sono messo lato il quartista cercavo di di aiutare Marco che lui veniva incontro e attaccava lo spazio diciamo il ruolo che sto facendo io devo cercare di allungare le difese e di attaccare lo spazio. Guarda all'inizio come avete visto non giocavo quasi mai cioè giocavo poco quindi è vero come mi ha detto il miste chi merita il gioco perché secondo me se eh in queste partite sto diciamo iniziamo cioè su iniziano dall'inizio secondo me perché me lo sono meritato poi magari passano tre quattro partite non gioco più perché eh non merito più di giocare quindi veramente chi merita il gioco però eh noi lavoriamo sempre a massimo soprattutto io che eh cerca sempre di dare una mano alla squadra e divento questo. Beh adesso è più dura di prima perché comunque devi cercare di di mantenere diciamo questa maglia però eh se non dovessi partire di tolare il prossimo partito non è che eh faccio quello che ho fatto all'inizio cerco sempre di dare il massimo e di far capire al mister come ho sempre fatto voglio capire che ci sono anch'io. E queste erano le parole, le immagini eh per chi ci segue da casa della partita contro il Como e le parole di eh Dauria proprio il il marcatore nell'ultimo match di campionato di campionato tra Siena e Como Dauria che ha proprio parlato del suo impegno profuso e messo in campo per cercare di conquistarsi una maglia da titolare in una rosa davvero eh ampia e eh talentosa e possiamo dire che sicuramente eh ci sta riuscendo per eh per il momento. Eh abbiamo parlato quindi ehm dell'impegno di campionato abbiamo visto eh e sentito le parole di Dauria come detto eh Roburzena che poi mercoledì è alle diciotto e trenta scesa in campo contro le Fere e contro la eh Ternana che eh gioca nell'altro girone eh nel girone C eh del campionato di eh di serie C una squadra eh sicuramente costruita per far bene quindi eh un impegno tra due tra due grandi squadre possiamo dire di questa eh serie C purtroppo Siena ne è uscito sconfitto per zero uno con la rete del solito eh vantaggiato che quando può eh punisce quasi sempre i bianconeri. Allora andiamo proprio a sentire le parole di mister Alessandro D'Alcanto nel post partita del per l'appunto della partita di Coppa Italia nei quarti di finale eh giocati mercoledì sera al Franchi. È stata una partita simile alle solite che vengo a commentare anche se al primo tempo la Ternana ha pareggiato bene, ha dimostrato essere una squadra forte, abbiamo sofferto un pochettino il predominio loro nella gestione della palla. Poi è normale avendo cambiato parecchi interpreti e non essendo abituati a giocare insieme ci sta che ogni tanto si perda un po' al filo. Al secondo tempo la squadra secondo me è cresciuta in modo abbastanza netto anche nella gestione delle situazioni. Abbiamo avuto tante palle per poter andare in vantaggio e alla fine siamo stati puniti da un grande giocatore ci può stare. Noi abbiamo concesso il primo tempo fondamentalmente la punizione di vantaggiato e al secondo tempo il gol. Poi è normale dopo l'1-0 un po' ci siamo sfilacciati per tentare di rimetterla in piedi però la squadra secondo me ha fatto quello che doveva fare. Tenevamo parecchio questa competizione qua ma non tanto per la posizione che può favorire poi il playoff perché secondo me vincere un trofeo è sempre bello provare a vincere un trofeo è sempre bello ci dispiace uscire siamo usciti contro una squadra forte però per la prestazione che abbiamo offerto potevamo pure ottenere qualcosa di più ma nel calcio tanto lo dico sempre non va perché produciamo va perché oggi abbiamo sbagliato le occasioni che potevamo concretizzare di contro non l'abbiamo subita. E queste erano invece le parole come avete sentito di mister Alessandro Dalcanto che si è detto rammaricato dell'occasione eh gettata possiamo dire della Roburziana che come sapete si stava giocando l'accesso alle semifinali di Coppa Italia per chi ci segue da casa eh chi ha avuto modo di vedere eh gli allies di questa mh partita al Siena un po' sprecone possiamo dire così almeno due eh palle gol nei primi dieci minuti che avrebbero eh sicuramente potuto cambiare eh la partita due palle gol sui piedi eh di Ocadda e insomma c'è stato un po' di ehm di imprecisione possiamo dire eh così anche un po' di sfortuna eh la ternana come avete sentito dalle parole di ehm dal canto ha punito poi immediatamente eh la Roburziana eh alla alla prima occasione utile tra l'altro palla eh nei piedi di vantaggiato insomma parliamo di un giocatore con un grande trascorso nel professionismo eh italiano andiamo oltre ehm e quindi dopo aver parlato della Coppa Italia ci tuffiamo in quello che è il prossimo turno di campionato del girone A di Serie C andiamo quindi a vedere quali saranno gli impegni eh tra eh sabato sera il l'anticipo di questa diciannovesima giornata e eh domenica partiamo quindi con Carrarese Pianese eh a lei che sarà giocata proprio stasera alle ore eh ventuno domani alle ore eh quindici e quindici minuti Alessandria Provercelli Gian Erminio Propatria Novara Roburziana Olbia Juventus Under ventitré Renate Arezzo mentre eh sempre domani alle ore diciassette e quarantacinque Como Albino Aleffe Gozzano Pergolettese Pistogliese Lecco eh Puntedera eh Monza eh andiamo a vedere anche quella che eh la classifica del del girone A di Serie C e il Monza eh guida quarantacinque punti segue il Puntedera con trentacinque Renate con trentadue Roburziana trentun punti Carrarese trenta Novara ventinove con venticinque punti troviamo Albino Aleffe Arezzo ed Alessandria Provercelli con ventitré punti a ventidue troviamo Pistogliese Como Juventus Under ventitré con ventun punti la Propatria diciotto punti per Pianese Lecco Gozzano e eh quindici punti per la Pergolettese undici punti per l'Olbia e dieci punti per la eh Gian Erminio che chiude eh il girone A di eh Serie C partita interessante potremmo dire anche quella tra Puntedera e Monza che sarà giocata lo ricordo domenica quindici alle ore diciassette e quarantacinque perché sarà la prima della classe contro eh l'inseguitrice Puntedera eh sarà importante eh per due motivi possiamo dire eh per il Siena e nel caso in cui Puntedera eh inciampasse in questa partita contro il Monza eh mette invece che logicamente per così provare a riaprire il campionato una vittoria del Puntedera potrebbe accorciare anche se di poco un po' le distanze contro il Monza che sta guidando per l'appunto in scioltezza questo campionato di eh Serie C ricordiamo sono dieci i punti di vantaggio sulla seconda in classifica per quanto riguarda invece le posizioni mh più calde eh subito eh sotto al Puntedera vediamo il Renate come detto con trentadue punti Roburziana trentuno Calarese trenta e Novara ventinove quindi potete ben capire l'importanza eh di questo match anche perché potrà Novara e Albinoneffe eh inizia il primo piccolo solco possiamo dire di quattro punti che distanzia un po' ehm queste eh quattro squadre eh Roburziana che per l'appunto ahm andrà a giocarsi questa partita a a Novara Novara eh di cui abbiamo un brutto ricordo ultimamente per la sconfitta nel primo turno eh dei playoff dell'anno scorso quando una rete di cacia gelò tutto l'Artemio Franchi eh il Siena che veniva dalla dalla bellissima vittoria contro il il Piacenza quindi un clima eh veramente magico e purtroppo insomma il Novara ci eh fece questo brutto scherzo eh nella eh passata stagione ehm per quanto riguarda la situazione eh degli undici a disposizione di eh mister Alessandro Dalcanto di cui sentiremo eh a a brevissimo le parole in conferenza stampa nella consuetà il consueto incontro con la stampa del venerdì pomeriggio eh c'è ancora da stabilire se Cesarini sarà in campo dal primo minuto però il recupero possiamo dire ufficiale eh qualora non ce la facesse sarà eh Guberti invece a prendere eh il suo posto la seduta di ieri pomeriggio quindi eh l'ultimo eh l'ultimo incontro in campo per cercare di eh programmare al meglio la eh la trasferta e poi la partenza per nel pomeriggio per il ritiro in Piemonte e poi eh si parla anche della eh prossima trasferta che vedrà impegnati i bianconieri in Sardegna contro l'Olbia eh la trasferta prima della pausa natalizia eh occhio a Novara ci assomiglia a questo eh il succo diciamo delle parole di mister Alessandro d'accanto quindi direi di eh andare a sentirle insieme abbiamo una squadra che secondo me sta pure bene ha fatto un cammino simile al nostro ha una squadra simile alla nostra alla fine lotterà con noi per un piazzamento per il miglior piazzamento possibile del playoff è una gara equilibrata andiamo su un campo difficile quindi mi aspetto una partita tirata ma l'importante è che si riesca a giochichiare bene ora gli ultimi due impegni con l'Alessandro in casa contro il Como e campo i campi perché non era in casa uno fuori sono stati parecchio pesanti e ci portano a parte gli sforzi lo dissi già che la squadra non c'era un abituato a sostenere perché il nostro è sempre perfetto è sempre sintetico quindi è un tipo di fatica che qualche giocatore non è abituato a sostenere e qualche problemino fisico che ci abbiamo noi in qualche ragazzo deriva in questo momento in questa fase della stagione qua soprattutto da questo aspetto qua però meglio che abbiamo il sintetico che ci possiamo allenare sempre in modo perfetto la squadra secondo me per come è stata costruita ha fatto il cammino che doveva fare ha avuto qualche battuta d'arresto di troppo in casa sì questo è una cosa che dobbiamo far meglio però non penso che nessuno si aspettasse sette vittorie fuori casa quindi il cammino comunque rimane buono come solito c'era una due sorprese in positivo vedi Renate e Pontedera che non si aspettava nessuno perché se sfido uno a dire che Pontedera oggi fosse stato secondo la diciottesima giornata e sono stati bravi loro qualche sorpresa in negativo oggi è presto per per battezzarla qualche d'una che magari un po in ritardo nel cammino c'è ma il campionato ve l'ho detto già finisce a maggio quindi nel girone di ritorno di solito emergono le squadre con forza e caratura quindi speriamo di essere tra quelli lì e queste erano le parole di mister Alessandro Dalcanto domani serve una grande robura ha detto il mister bianconero per battere un Novara che è molto simile possiamo dire anche nei numeri ai bianconeri perché se prendiamo in mano quelli che sono i gol fatti e i gol subiti eh dal Novara vediamo che sono venti le reti eh realizzate sedici quelle eh subite un quindi uno score molto simile a quello bianconero che ehm che per quanto riguarda le reti subite è uguale sedici per quanto riguarda invece le reti realizzate solo tre in più ventitré quindi una squadra veramente eh quadrata il Novara e che darà del filo da torcere a gli uomini di Dalcanto andiamo a vedere quali potrebbero essere anche gli undici in campo perché se eh si danno per buoni diciamo se si dà per buona la conferma della difesa a quattro il ballottaggio nella linea difensiva potrebbe essere tra Migliorelli e Panizzi ehm che avendo giocato proprio nel turno di Coppa Italia eh potrebbe rischiare tra virgolette di rimanere in panchina centrocampo invece potrebbe partire il terzetto Serrotti Arrigoni e Vassallo eh con Dauri e Cesarini che potrebbero eh posizionarsi eh dietro a Guidone di Cesarini abbiamo parlato pochi minuti fa è tutto da vedere se eh il mago riuscirà a recuperare il cento per cento dall'infortunio eh altrimenti potrebbe subentrare eh come abbiamo detto eh Guberti al suo posto eh non chiudiamo adesso la nostra pagina relativa eh al calcio alla Roburziana andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito dopo per parlare di basket. 12 e 28 minuti torniamo in diretta prima sport abbiamo ampiamente parlato di Roburziana di calcio eh degli impegni della squadra bianconera di questa eh settimana di questo fine settimana eh adesso cambiamo argomento e parliamo di eh basket e partiamo come sempre con il servizio realizzato da nostro Andrea Radi che va a fare il punto della situazione per quanto riguarda eh Virtus costone costone femminile e menzana. Alti e bassi nel weekend della pallacanesto sinisi. Sconfitta per la Virtus che complice anche l'assenza dell'infortunato Bartoletti cade sul parchè di Valdisievi per 67-64 c'è vedendo nuovamente la vetta a Chiusi vincente invece contro Prato per 86-77. Sorride invece la Vismederi Costone che dopo il K.O. nel derby con il Colle Basket si rialza con una bella vittoria a Casalinga contro Valdera per 60-57 al termine di una bella partita risolta da Giallo Vidi soltanto nel finale. Per il Costone decisivi ventuno punti di Bruttini e i quattordici di Tognazzi. Non si ferma la marcia della menzana basketball che batte lentamente Libri e Forti Firenze per 107-43. Partita senza storia per i Biancovirdi che già nel secondo quarto iniziano a prendere il largo per non fermarsi più. Nel femminile Vittoria in trasferta per il Drago La Fornace Costone che si impone per 44-47 sul parchè di Lavagna staccando in classifica proprio le Liguri e salendo così al sesto posto con 10 punti. Questo era il servizio di Andrea Radi per fare il riepilogo dell'ultimo weekend di basket qua in città. Partiamo quindi come sempre con la Serie C Gold per parlare di Virtus Siena che come avete sentito dalle parole all'interno del nostro servizio cade contro Valdisieve per 67-64 quindi andiamo a vedere il servizio relativo a questa partita. Sconfitta in trasferta per la Cea che apponta a Sieve cade contro Valdisieve per 67-64. Fuori Bartoliti per infortunio, Coach Tozzi inserisce in quintetto Bianchi in posizione di playmaker. In avvio le squadre si rispondono colpo su colpo. Valdisieve si appoggia a Cianchi mentre la Virtus riesce a trovare spesso soluzioni vicino a canestro, Condur, Ollea e Casoni. A fine primo quarto è la Cea a Condurre, anche se di soli due punti, 14-16. La seconda frazione è segnata dai tanti errori in fase offensiva da ambo le parti. Per il rosso-blu si sveglia Embro che piazza due triple che portano gli ospiti sul più 4 ma Valdisieve risponde subito e le squadre vanno all'intervallo lungo sul 28-29. Al rientro sul parquet i padroni di casa sembrano molto più aggressivi e determinati rispetto alla Virtus e grazie alla vena offensiva di Cianchi piazza non parziale che li porta in doppia cifra di vantaggio, 45-35. Valdisieve allunga fino al più 13 con il rosso-blu in serie difficoltà a livello offensivo. Solo la precisione dalla lunetta di Embro permette agli ospiti di accorciare sul fine del quarto che termina 52-45. Nell'ultimo periodo sembra tornare a girare bene sia l'attacco che la difesa Virtusina. Bove e Ollea accorciano sul meno 3, 54-51. Il divario rimane invariato fino all'ultimo minuto di partita, quando la CEA riesce a mettere la testa avanti grazie a un canestro di Casoni su Asse d'Indur, 63-64, a 42 secondi dalla fine. Coach Pescioli chiama timeout e sulla rimessa Occhini è brava a guadagnarsi il fallo che vale il 2-2 della lunetta per il nuovo controsorpasso. Dalla parte opposta l'attacco rosso-blu non va a buon fine ed è ancora Occhini a catturare il rimbalzo e subire il fallo che lo porta ancora in lunetta per il 2-2 del più 3. Con 5 secondi rimasti sul cronometro la Virtus prova a tirare per il pareggio, ma la tripla di Casoni dall'angolo non entra e la partita termina 67-64. E questo era il servizio di Andrea Radi sulla partita del scorso turno di campionato di Serie C Gold che ha visto la CEA Virtus Siena uscire sconfitta dalla trasferta di Val di Siavi per 67-64. Allora direi di andare a vedere quelli che saranno gli appuntamenti per la tredicesima giornata di campionato di Serie C Gold partiamo con Spezia Basket Club contro Pallacanestro Val di Sieve a CEA Virtus Siena che sarà occupata, impegnata scusate contro Don Bosco Livorno, Alto Passo contro Montevarchi, Castelfiorentino Sinergi Valdarno, Pallacanestro duemila Prato contro Pallacanestro Agliana, Pielle Livorno contro San Giobbe Chiusi e Olimpia Legnaia contro Libertas Montale. Andiamo a vedere invece la classifica come abbiamo visto dal servizio di Andrea Rai, come abbiamo sentito. San Giobbe si riprende la testa della classifica con la CEA Virtus che insegue quindi Chiusi 20 punti, a CEA Virtus Siena 18, seguono a 16 Agliana e Castelfiorentino, 14 punti invece per Olimpia Legnaia e Pielle Livorno, Libertas Montale 12 punti, Fides Montevarchi 10 punti, assieme ad Arezzo, Pallacanestro duemila Prato e Pallacanestro Val di Sieve 6 punti per Spezia Basket Club e Sinergi Valdarno e 4 punti per Don Bosco Livorno. Chiude Alto Passo con due punti. Noi proseguiamo la nostra carrellata, andiamo a parlare di Serie C Silver e andiamo a vedere e a sentire il servizio relativo in questo caso alla vittoria della Vismederi Costone per 60A57 a conto Valdera. Torna la vittoria della Vismederi Costone che in un finale infuocato supera la Pallacanestro Valdera che fino all'ultimo ha cercato di espugnare il parcheggio di Montarioso nonostante l'assenza pesante di un pezzo pregiato quale Bargelli. Una gara equilibrata che ha visto continui sorpassi e controsorpassi fino a 5 minuti dalla fine quando su 49 pari la Vismederi grazie a una difesa eccellente guidata da Catoni capace di limitare grazie a continui raddoppi il gioco nel pitturato che tanto ha fatto male a Giallo Verdi durante la partita scappa via portandosi sul 58 a 49 a 2 minuti e 56 dal termine grazie agli assoli di Tognazzi alla precisione libere di Bruttini e Catoni e alle invenzioni di bene in casa. Con la Vismederi in controllo Valdera aumenta l'aggressività a livello difensivo forzando molte palle perse ai ragazzi di Braccagni e rifacendosi sotto tornando a meno 4 a 26 secondi dal termine. La trepa del meno 2 di Rubini fa tremare il palladannini ma non c'è più tempo e Bruttini dalla lunetta fissa il risultato sul 60-57 finale. Per la Vismederi ottima la prova di Bruttini con 21 punti. Tognazzi con 14 e bene in casa autore di 7 punti. Torniamo in diretta. Questo era il servizio di Andrea Radi sul match. Come avete sentito contro Valdera è terminato a 60-57. Un'importantissima vittoria per la Vismederi Costone che si conferma quindi squadra ostica e che tenterà fino all'ultimo di ehm prendersi le posizioni più nobili di questa eh serie C eh Silver. Prima di andare a guardare i risultati e la classifica ehm gli appuntamenti del prossimo turno dell'undicesima giornata andiamo invece ad ascoltare il servizio del del nuovo arrivo in casa Costone perché Uliat è stato eh tesserato già nelle scorse settimane si era parlato di questo nuovo giocatore brasiliano che eh grazie a delle conoscenze dei mh presidente eh Montomoli poteva approdare eh alla Vismederi Costone è stato eh tesserato quindi eh potrà eh far parte già da mh questo fine settimana eh dei componenti della Vismederi Costone andiamo a sentire proprio le le sue parole l'intervista e il servizio realizzato da Siena TV Eh buono Siena è una città bellissima anche per tutte le persone che ho incontrato per me è un privilegio stare qui per me è un privilegio stare qui e avere l'opportunità di giocare sono molto contento di essere qua a Siena e me me mi 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 pare sei eh una buona ciudad eh io sono eh buoni chicos e stiamo contento con i miei copagni sono bravissimi ragazzi mi trovo molto bene con loro cominciamo a conoscerci scherzare e fare gruppo stiamo prendendo anche sempre più il ritmo sul parquet fare gruppo è una cosa molto importante anche per il gioco e poco-a- poco e che stiamo eh impiando ma sei ritmo juntos come l'equipo e… Il basket italiano è molto europeo, diverso da quello americano, a quello NBA, a cui noi brasiliani siamo molto più abituati. È un basket di Euroliga, più pensato e a me piace molto. È una squadra con un ottimo allenatore, che ne capisce molto riguardo la parte tattica del gioco. A me piace molto, lavoriamo molto sulla tattica per cercare sempre un tiro pulito in attacco. Questo tipo di basket per me è perfetto. E queste erano le parole di Juli Atol, nuovo acquisto in casa Costone. Allora andiamo a vedere subito l'appuntamento di questa undicesima giornata relativa al campionato Serie C Silver. Partiamo con l'anticipo di questo pomeriggio tra Libertas Liburnia e Terra Nuova. Domani invece alle ore 6 giocheranno il centro minibasket Carrara e Livorno Basket. Palla Canestro Valdera contro Libertas Mille, 947 Livorno. Gia Grosseto contro Folgore Fucecchio. Bianco Rosso Empoli contro Juve Ponte d'Era. Rismideri Costone Siena contro Quarrata. Alle ore 18.30 invece con le basket contro Audax Carrara. Guardiamo la classifica relativa alla Serie C Silver. Guida la Folgore Fucecchio con 16 punti. Come dicevamo prima o poi subito dietro. Vismideri Costone Siena assieme a Quarrata con 14 punti a inseguire la capolista. A 12 troviamo la Juve Ponte d'Era assieme a Valdera. 10 punti invece per Grosseto Carrara, Libertas Livorno e Galli Terra Nuova. 8 punti per Bianco Rosso Empoli, Livorno Basket, Colle Basket. 2 punti per Audax Carrara. Chiude con 0 punti invece Libertas Liburnia. Passiamo adesso a parlare invece del Drago La Fornace, quindi delle ragazze di Corce Fattorin del Costone femminile che è tornato alla Vittoria 44-47 nella trasferta di Lavagna. Quindi andiamo a sentire il servizio. Vittoria è importante per il Drago La Fornace, capace di imporsi in trasferta a Lavagna con il ponteggio di 44-47. Una gara molto tirata, giocata fino all'ultimo respiro, con le senesi che hanno trovato nel finale la forza per non farsi superare dalle padrone di casa, minacciose con il loro pressing. Inizio di partita con le rigore audaci e brave a trovare la via del canestro, complice una difesa bianconera piuttosto disattenta. Le cose cambiano sostanzialmente nella seconda frazione, con il Costone che scappa con decisione, approfittando di uno sbandamento delle locali, che subiscono un parziale di 8-18, andando così nelle spogliatoi sul meno 5. Dopo l'intervallo, il match assume i connotati da vera e propria battaglia, ma le ragazze di Fattorini non si fanno intimorire, nonostante a Drighetti e compagni facciano di tutto per sovvertire l'esito dell'incontro, ma le senesi con Dragoni, unica in doppia cifra e 39 minuti sul parchè, reggono fino alla serena finale, che vede il tabellone per me nelle bianconiere per il 44-47. Come detto quindi, le ragazze di Coach Fattorini tornano alla vittoria, allora andiamo a vedere gli appuntamenti del campionato di Serie B femminile per valevoli per la undicesima giornata. Partiamo con l'anticipo. Gia Grosseto, basket femminile Ponte d'Era, Pallacanestro Perugia, Amatori, Pallacanestro Savona, Claudio Papini da Spezia contro Florence Basket e Pallacanestro Femminile Prato contro Basket Lavagna, che come detto saranno giocati dalle ore 18 di questo pomeriggio fino alle 21.15, la partita per l'appunto tra Prato e Lavagna, mette domani alle ore 18, San Giovanni Valdarno a venire 2000 rifredi, alle ore 18.30, Pallacanestro Femminile Firenze contro il Drago e la Fornace Costone, il posticipo delle ore 20.30 è Lemura Spring Basketball contro Basket Peglia. Andiamo a vedere la classifica della Serie B femminile, il Palagiacco Guida con 18 punti assieme a Savona, con 14 punti troviamo Pontedera, 12 punti per Lemura Basketball, Pallacanestro Femminile Prato, il Drago e la Fornace Costone, Siena Florence Basket, segue invece con 8 punti Basket Lavagna, 6 punti per San Giovanni Valdarno assieme a Perugia e Pelli, 4 punti per avvenire 2000 rifredi, Gia Grosseto e Claudio Papini. La Spezia, passiamo a parlare invece di Menzana, quindi campionato di promozione, Menzana che ha già giocato, ha vinto la partita di ieri sera, però facciamo un passo indietro e ripartiamo, quindi possiamo dire dalla penultima vittoria della Menzana contro Liberi e Forti, la partita terminata 107 a 43, sentiamo il servizio. Tutto facile per la Menzana Basketball, che batte nettamente liberi e forti Firenze, con il punteggio di 107 a 43, al termine di 40 minuti, in totale controllo. Vinella sceglie Pannini, Spugnoli, Dolfi, Falsini e Manetti per lo starting five, con i due lunghi, assegnati i primi meccanesi dal campo. Gli ospiti provano a restare attaccati, almeno in avvio, e sostanzialmente ci riescono, sfruttando alcune conclusioni da fuori, chiudendo i primi 10 minuti di partita sul meno 8, 22 a 14. Nel secondo parziale, la squadra di Vinella piazza al primo a lungo, stringendo le maglie difensive, e concedendo solo 4 punti in 10 minuti a liberi e forti, che provano a replicare, ma vanno a riposo, già sul meno 25, 43 a 18. Nella seconda metà di gara, c'è spazio per il garbage time, con Vinella, che trova ottimo impatto da Bruni e Toscano, con Collette e Milano, che invece escono acciaccati, rispettivamente per una distorsione alla caviglia, e una contusione all'occhio. Il top scorer, alla fine Lorenzo Manetti, con 21 punti, seguito da Franceschini con 15, per una partita che termina 107 a 43. E Menzana, come detto, che è già scesa in campo, ha giocato proprio contro la freccia azzurra Firenze Basket, vincendo per 55 a 94, quindi andiamo a sentire proprio le parole di Coach Vinella. Una partita che abbiamo giocato bene dal punto di vista offensivo, meno bene dal punto di vista difensivo nei primi due quarti, in cui abbiamo gestito un po' la fatica, lo sforzo, cercando di battezzare un po' le caratteristiche dell'avversario, aspetto che ho fatto notare nell'intervallo, e che francamente abbiamo corretto decisamente nel terzo quarto, per quanto all'intervallo la partita fosse già in controllo, abbiamo fatto poi un lavoro di gestione nel terzo quarto quarto, sia della fatica che del ritmo, devo dire che abbiamo avuto buone indicazioni fino alla fine, anche dai più giovani. Torniamo in diretta, allora andiamo a guardare quello che sarà l'appuntamento per la decima giornata del campionato di promozione Girone B, come detto sono due le partite già effettuate, una è la crocetta San Minato, giallo-blu Castel Fiorentino, che è terminata 59-52, l'altra è quella di cui abbiamo parlato pochi istanti fa, Frecciazzurra Firenze contro Estramenzana Siena, 55-94, mentre questa sera alle 20.45 giocherà Liberi e Forti Firenze contro DLF Firenze, alle ore 21.15, minuti Fice-Clum-Fucecchio contro Atletica Castello Firenze, domani alle ore 18 invece Montespertoli contro Maggino Siena e alle ore 18.30 basket in pruneta contro basket Poggi-Bonzese per una classifica che vede Libero Basket Siena guidare con 18 punti, Estramenzana-Siena con 16 punti, a 14 segue basket in pruneta, giallo-blu Castel Fiorentino con 12 punti, 10 punti per Firenze, la DLF, Frecciazzurra Firenze invece 8 punti, assieme a Maggino Siena, Montespertoli 6 punti, assieme alla Crocetta San Mignato, 4 punti per Atletica Castello Firenze, Liberi e Forti Firenze, Fice-Clum-Fucecchio, 2 punti per basket Poggi-Bonzese, che chiude la classifica del campionato di promozione, girone B. Noi chiudiamo invece adesso la nostra pagina relativa al basket, torniamo subito dopo per parlare di pallavolo e pallamano. 12.51 minuti, torniamo insieme, anteprima sport per l'ultimo blocco, come sempre dedicato a pallavolo e pallamano, partiamo proprio dal volley, perché l'Emma Villas ha vinto contro la BCC Castellana Grotto in un delicatissimo match settimana scorsa, andiamo quindi proprio a sentire il servizio relativo all'ultima vittoria in campionato. Sì, ci lavoro tanto, sono molto contento di aver messo in pratica il servizio oggi e soprattutto di essere riuscito a creare un bel break per la squadra, ma credo che anche gli altri compagni abbiano creato dei danni alla ricezione loro. Abbiamo spinto tanto e quindi ci avvantaggia poi a giocare così. Due trasferte, l'ultima in casa al 26, secondo me è da giocare con molta attenzione, un po' più mentale, essere bravi a prenderci tutti i punti disponibili per la classifica finale di andata per la Coppa Italia. Quindi giocare fuori è sicuramente più difficile, non c'è pubblico di casa, ma dobbiamo essere più bravi noi. Sì, non poteva che essere così la partita, lo sapevamo. Diciamo che i due set che abbiamo vinto era un po' un'anomalia. Ci aspettavamo una reazione da parte loro e c'è stata, e comunque è venuta fuori una bella partita. Loro hanno un grande potenziale, come hai detto tu, siamo stati bravi. Oltre che a muro, secondo me anche in battuta, i momenti importanti a spingere, a metterli in difficoltà, e lì credo che abbiamo fatto la partita. Il campionato è lungo, come abbiamo sempre detto, ci sono tante squadre attrezzate. La BCC è una di queste, siamo stati bravi a portare a casa la partita, a vincere, e stiamo cercando di dire che anche noi siamo sul pezzo e vogliamo continuare così. Sì, lo speravamo un po' tutti, c'è stato un calo da parte nostra, ma anche merito loro, comunque che hanno, sempre con la battuta, ci hanno messo in difficoltà, e con qualche cambio palla non è andato, lì abbiamo lasciato sfumare il set. Ti ripeto, ci sta perché loro sono un'ottima squadra, quindi bravi nel tie break a riprenderla e a vincere. E queste erano le parole di Romolo Mariano e Carmelo Egitto, Romolo Mariano che peraltro ha parlato proprio di Coppa Italia, allora ci ricolleghiamo subito al prossimo servizio in cui il presidente Gianmarco Bisogno durante il programma condotto da Simona Sassetti e Lorenzo Agnelli ha parlato proprio ai nostri microfoni della Coppa Italia. Sentiamo. Alla Coppa Italia ci si pensa? Sì, molto. Io la Coppa Italia l'ho sempre amata perché è un'occasione molto importante perché è nella kermesse della Final Four e della Serie A1, quindi di fronte a tanti spettatori, se non migliaia di spettatori, e è un evento secondo me che noi, anche per come è organizzata la nostra società, i nostri ragazzi e soprattutto gli sponsor, gli imprenditori che partecipano a questo progetto, essere in quella platea è sicuramente di grande importanza e di grande prestigio, per cui ci tengo, ci ho sempre tenuto, tengo anche a dire che abbiamo vinto addirittura tutte le coppie possibili tranne quella della A1, B2, B1 e A2, e non sarebbe male anche fare un'altra escalation a Bologna. Se l'è già creato un giocatore preferito oppure non si vuole sbilanciare? Non lo posso dire, però sicuramente essendo intervista anche lui, Roma no, parte in vantaggio. No, guarda, questo è un gruppo che a me piace molto, voglio fare complimenti a Fabio perché ha individuato due o tre giocatori devo dire con molta con molta lungimiranza, penso a Milan e a Romano per esempio, però ci sono stati alcuni giocatori che io ho conosciuto nelle vecchie edizioni dei campionati, per esempio Marra, io è un giocatore che ritengo sia tutt'oggi un libero di assoluto valore. E queste erano le parole del Presidente Bisogno, come avete sentito, ha parlato proprio sia del gruppo sia dei prossimi impegni relativi alla Coppa Italia. Allora, noi andiamo invece a vedere i prossimi impegni della Emma Villas in quella che sarà la decima giornata di Serie A2, BCC Castellana Grotte contro Calci, Mondovì, Emma Villas a Ubeisiena, Reggio Mila Brescia nell'anticipo di questa sera alle ore 20 e 30, Cantù, Bergamo, Santa Croce e Ortona. E Lago Negro, Matero Domini, Castellana Grotte sempre nell'anticipo delle ore 20 e 30. Questa sera guardiamo la classifica di Serie A2 per quanto riguarda logicamente il campionato in cui gioca la Emma Villas a Ubeisiena, la Sortona ha 19 punti assieme a Calci, Emma Villas a Ubeisiena che segue a stretto contatto, possiamo dire solo due punti di distacco, sono 17 infatti i punti dei bianco-azzurri, 16 punti per Brescia, Santa Croce con 15, Bergamo 14, BCC Castellana Grotte 13, Lago Negro 10, Reggio Mila 7, Mater Domini, Castellana Grotte 6, Cantù 3, Mondovì 2. Noi adesso abbiamo pochissimo tempo quindi dobbiamo saltare da uno sport all'altro e andiamo a parlare di palla a mano perché indubbiamente sono molte le notizie di cui parlare. Partirei però dal primo servizio relativo all'ultima partita di campionato dell'Ego Handball prima di andare a parlare di quella che è stata la notizia della settimana ovvero l'esonero di Coccio Fusina. La Ego Handball Siena si conferma prima al giro di Boa vincendo all'ultimo contro Fondi 27 a 28 a decidere è un gol di Umberto Bronzo che mette il timbro su una partita giocata non proprio al massimo della forma e che Fondi meritava di pareggiare se non addirittura vincere. I bianconeri però hanno la meglio e portano a casa due punti fondamentali soprattutto per il morale della squadra che non sembra ancora essersi ripresa del tutto dalla sconfitta contro Conversano tanto da cadere in casa anche contro Cassano. Risultato importante anche per la classifica che vede l'Ego ancora in testa seppur in compagnia di Conversano che vince a Merano. Si chiude così il girone di andata tanti i dubbi che le vacanze natalizie dovranno sciogliere o almeno è questo l'obiettivo. Importantissima vittoria la partita come l'ultima giocata malissimo siamo stati sotto tutta la partita è il periodo era l'ultima partita portiamo a casa i due punti e dobbiamo essere molto felici di questo. Si è un po' inceppata questa macchina che fino a nove partite ha dimostrato bel gioco compattezza unità e ci sarà da lavorare per me ma che ben venga adesso l'importante è farsi trovare pronti negli obiettivi quelli che contano. È un percorso lungo e forse siamo stati un po' ammaliati dal fatto che i risultati sono arrivati subito però c'è la sport e la palla a mano se fosse così semplice allora sarebbe tutto bello e facile però niente ci prendiamo questi due punti importanti e torniamo a casa e questo era il servizio di Teresa Scarcella avete sentito anche le parole di Coach Fusina servizio relativo all'ultima vittoria proprio a Fondi per 27-28 vittoria che ha chiuso il girone di andata con la Ego Handball in testa alla classifica a pari punti assieme a Conversano abbiamo sentito nelle parole di Coach Fusina non solo relative a quest'ultimo match ma anche nelle settimane precedenti una sorta di calo di prestazione da parte della squadra alcuni problemi si parlava proprio dell'inceppamento di questa macchina che per nove turni ha possiamo dire asfaltato nel vero senso della parola il campionato di Serie A di palla a mano ed è così che poi a metà settimana arriva la notizia arriva la notizia dell'esonero di Coach Fusina quindi andiamo a sentire il servizio realizzato dalla nostra redazione è stato un fulminaccio il sereno la decisione arrivata ieri in serata di esonerare il Coach Alessandro Fusina dall'incarico di allenatore della prima squadra una scelta quella presa dalla società che non solo ha creato lo stupore generale tra gli addetti lavori giocatori e lo stesso ormai ex allenatore ma che non è stata accompagnata da motivazioni all'interno della stringata nota stampa infatti non vengono chiarite le circostanze di questa rottura inaspettata soprattutto alla luce della classifica che vede la Engo Handball seppur con qualche perplessità sulle prestazioni chiudere il girone di andata in vetta alla classifica sicuramente l'evidente momento di crisi vissuto dai bianconeri in campo avrà avuto la sua rilevanza a quanto pare le due sconfitte contro Conversano prima e Cassano poi così come i due punti conquistati all'ultimo contro Trieste e Fondi hanno lasciato la mare in bocca al presidente Marco Sant'Andrea a tal punto ad arrivare a prendere una decisione come quella di tagliare fuori Alessandro Fussina dal progetto dando una vera e propria scossa a tutta la squadra che avrà la pausa natalizia per metabolizzare la novità non proprio un bel regalo di Natale quindi quello per l'allenatore siciliano da parte dell'imprenditore il rapporto tra i due è nato due anni fa quando Fussina venne scelto proprio da Santa Andrea per far partire il progetto della palla a mano a Siena rapporto confermato quest'anno con ben più alte prospettive ma evidentemente la visione comune iniziale è venuta a mancare nonostante i risultati positivi di questa prima parte del campionato il nuovo anno quindi inizierà con un nuovo coach in panchina il nome del sostituto ancora non si conosce ma la velocità con cui è avvenuto l'esonero lascia pensare che un contatto sia già stato preso e questo era il servizio della nostra Teresa Scarcella che ha cercato di fare il punto della situazione per quanto riguarda per l'appunto l'esonero di coach Fusina il campionato però va avanti e quindi vediamo quali saranno gli appuntamenti relativi al prossimo turno di campionato si riparte quindi con la prima giornata di ritorno Sassari contro Fondi Trieste Gaeta Brixen Ego Enbol Merano Fasano Cassano Magnago contro Pressano Cologne Conversano e Spare Reppan contro Bolzano logicamente questo è il turno che verrà giocato alla ripresa del campionato quindi parliamo di metà gennaio 2020 come avete sentito nei servizi infatti si è concluso proprio settimana scorso il girone di andata che riprenderà solamente ad anno nuovo con quest'ultimo servizio quindi Antiprima Sport finisce qua io vi do appuntamento per sabato prossimo ciao 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 ciao